Oggi tutto quello che ti serve è a portata di click. Una cena, scarpe, viaggi, forse anche nuovi amici. Con i Digital Extras di Mercedes-Benz, il tuo viaggio in auto si trasforma con un semplice tocco. Destronic, Energizing Comfort, Digital Light con funzione di proiezione e molto altro ancora. Tutto a portata di click. Grazie a tutti.